Ciao ragazzi oggi siamo in zona Santissima Trinità anche se il paese è diciamo là dietro e questa è la strada che arriva dalla strada asfaltata che collega Santissima Trinità a San Mauro di Saline e oggi andremo a fare la discesa Gardon di sotto che prende il nome dalla contrada che attraverseremo prima di entrare nel bosco è una discesa abbastanza impegnativa, bella sassosa e bella rocciosa andiamo? Eccola qua, il garzono di sotto, il cartello è coperto qua, giriamo a destra e qui scadiamo via a sinistra ok, ed è qui cominciamo a scendere magari per un lambatizzatore potrebbe essere utile ok, via qua teniamo la destra, scendiamo ok, turn it attraversaremo ogni velo ok, andiamo ok ok blich per darmo ok 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 say app ben chcontino occhi ok si vede che ha piovuto, l'acqua ha un po' scavato andiamo giù a destra di qua, non c'è un altro sentiero che scende ma andiamo giù di qua come vedete bella sassosa, bella rocciosa torna un mattino secco ecco il bel tornante non c'è un po' scavato vorrei Sì vedete ve la sporchita si vede che passano i pochi da qua l'acqua ha scavato pericchio bene finita ed eccoci arrivati siamo sempre sul provadia scendiamo 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 ed eccoci arrivati qui è la strada che scende e arriva sulla provinciale che va su Giazza ciao ciao